Grazie a tutti. Nell'ambito di questa inaugurazione si esibiranno dei musicisti, ci sarà un piccolo concerto. Allora abbiamo qui la Maria Pisani, che è il presidente dell'associazione musicale Arte per Suonare, che appunto ci parlerà di questo progetto. Poi sentiremo Paola Occhi, che è il soprano, e il violista Giulio Melichelli. Allora, parliamo un po' del progetto. Questo progetto si sviluppa all'interno dell'associazione RILA, che è un'associazione ischidana, che nasce a partire da una manifestazione che è raccolta inizialmente con la poesia, e collabora con l'associazione Arte per Suonare per quanto riguarda invece l'aspetto musica. Questa collaborazione ha portato gli artisti a gestire degli eventi dove la musica, la poesia e anche la pittura convivono insieme per cercare di avviare l'arte a tutto campo, a 360 gradi. Per quanto riguarda l'associazione Arte per Suonare, proporrà di volta in volta all'interno del Museo del Mare o anche in altri luoghi, momenti musicali che faranno conoscere poi quelli che sono i talenti italiani, tra cui quelli che si esitiranno oggi, Paola Occhi e Giulio Melichelli. Allora, Paola Occhi che è un cantante, un soprano, quindi sicuramente una voce molto bella. Lascia un po' di lei. Io vengo da Modena, mirando la provincia di Modena, ho una scuola di canto che si chiama Lina dei Cavalieri, che apriremo un'altra sua idea anche qua a Ischia. E niente, io sono una soprano leggero e ho studiato per esserlo e mi fa piacere di essere stata inventata da Ischia da Bruno Mancini per Mila e le maglie di Sanieri per questa opportunità. Allora, i musicisti invece mi dicono che il fan è stato, il fan prodigio, per essere il granicello. Allora, io vengo da Roma, sono nato e cresciuto lì, ho studiato con il Sibato della Sicilia, sono laureato all'Accademia e a Sion, anche, a Svizzera, ho fatto due anni di corso di perfezionamento e in questo momento faccio audizioni in giro per l'orchestra importanti e lavoro nelle scuole per cercare di guadagnarmi quanta vita. Sei contento di partecipare a questo progetto? Molto, molto contento. Sono contento di essere qua a Ischia, bellissima Ischia e molto contento di essere stato invitato.